Palla al centro, è proprio il caso di dirlo. Parliamo delle prossime elezioni parlamentari del 25 settembre e dell'appuntamento con le regionali 2023. Più si avvicinano i due appuntamenti e più appare chiaro che la partita si giocherà al centro dello schieramento politico. Entrambe le estreme, sinistra e destra, corteggiano la diaspora vetero e neodemocristiana che col passare del tempo ha preso mille strade ma resta in buona sostanza quell'area moderata del paese attorno alla quale si costruiscono le vittorie politiche. A fare notizia, tornando agli onori della cronaca, dopo l'uscita primaverile che ha rilanciato l'idea di Molisagno, è l'ex ministro e ora sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Il suo movimento Noi di Centro, questo è il nome, tanto per ribadire la politica pitagorica del suo fondatore, vale un potenziale 9% su scala generale e un 5% in Molise. A rivelarlo è lo stesso Mastella che fa riferimento ad un sondaggio appositamente commissionato. Dalle parti di Napoli la notizia ha dato subito luogo a festeggiamenti pirotecnici. Siamo determinanti per il risultato elettorale delle prossime politiche, dice l'ex portavoce di Ciriaco De Mita, che fa riferimento a Puglia, Molise, Campania e Basilicata, dove, sempre a suo dire, gli schieramenti sarebbero separati da una incollatura. Agli urrà che arrivano da Benevento si sono aggiunti quelli del coordinatore regionale di Noi di Centro in Molise, il sindaco di Petrella T. Fernina, Alessandro Amoroso, che oltre a ribadire il concetto sul ruolo determinante della formazione, aggiunge anche la prospettiva di una corsa in solitaria. Le coalizioni in Molise, dice, sono entrambe al 39% e i nostri voti saranno indispensabili per vincere. Tuttavia, aggiunge Amoroso, in caso di veti ed esclusioni siamo pronti alla corsa in solitaria. La palla quindi ritorna al centro, ma più che una partita di calcio, il rebus elettorale al momento appare una partita di poker. Le carte, per il momento, sono ancora tutte coperte.